Buongiorno, sono Laura Tagliaferri, coordinatrice delle attività dell'Informa Giovani Multitasking del Comune di Bologna. La nostra formula progettuale è ormai consolidata da anni. Al fianco di noi operatori ed esperti abbiamo costantemente tirocinanti post laurea con borse di studio, giovani tirocinanti curricolari, volontari del servizio civile ed europeo e anche studenti delle scuole superiori. All'Informa Giovani questi ragazzi trovano uno spazio e un'opportunità per affinarsi o cimentarsi nelle redazioni del nostro portale Flash Giovani e sperimentarsi con il videomaking di Flash Video. Il nostro impegno e la nostra peculiarità consistono quindi nell'orientare e nell'accompagnare i giovani nel difficile passaggio dal mondo della scuola a quello del lavoro, favorendone esperienze concrete che sono importanti per la loro occupabilità e dal 2000 ad oggi sono oltre 300 i ragazzi che abbiamo avuto il piacere di ospitare.